salve a tutti e benvenuti al podcast del cactus via con gli applausi caro rupert gli applausi non arriveranno oggi ragazzi purtroppo o comunque arriveranno tardi ma in ogni caso io sono benny eccoli qui io sono sempre il solito sony cari ascoltanti esatto che parli sempre poi ci sono gli applausi così non si capisce mai quale sia il tuo nome caro sony ma perché ci sono attualmente gli applausi? ci sono stati e sono stati diciamo un po' così poco cheering più che altro ma ci sta e allora facciamo così sony 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 ok così la gente diciamo arriva più al dunque del tuo nome allora caro sony oggi abbiamo un ospite particolare perché in realtà il nostro caro Davide è un mio amico è di vecchia data ormai possiamo dire anche un amico di pseudo infanzia perché comunque noi ci siamo sempre frequentati anche con le nostre famiglie quindi bene o male posso definirlo a tutti gli effetti ecco un amico di infanzia possiamo dire così ma chi è Davide perché l'ho voluto convocare appunto nella cactus mention versione audio oggi caro sony ma io vorrei chiederti il motivo per il quale tu hai scelto appunto questa parola perché vedo che la usi molto spesso e ti piace quale parola? o ti piace mention vabbè perché comunque noi vogliamo discostarci da diciamo nomi già utilizzati da altre diciamo realtà e quindi dobbiamo cercare la nostra identità caro sony ok mi piace questa tua argomentazione esatto esatto però perché abbiamo chiamato Davide perché diciamo ecco questa è un po' quella rubrica che si va a giungere ecco a una rubrica che abbiamo già iniziato con un altro ospite che tra l'altro fa parte sempre un po' di quel gruppetto di amici miei palermitani è l'altro l'altro diciamo individuo mi riferisco chiaramente al buon Samuele che lui ha proprio una sezione specifica individuo bene si si è un individuo esatto come stai parlando? non sapevo come definirlo ma insomma è tale è un amico è un amico molto semplicemente e in quel caso noi abbiamo parlato abbiamo introdotto diciamo appunto questa rubrica dedicata alla lettura della Bibbia è diciamo tutto quel mondo della filologia e che appunto oggi diciamo va molto di moda grazie a vari soggetti che hanno deciso di introdurre diciamo tutta questa polemica legata all'interpretazione della lettura e il tipo di diciamo il tipo di elementi presenti all'interno della Bibbia ma oggi oltre al discorso legato ecco con questo filo rosso alla rubrica con Samuele parliamo più nello specifico del lato un po' più religioso perché appunto con Samuele parliamo del lato filologico con Davide possiamo addentrarci in quello che è proprio il discorso legato alla vera e propria fede perché caro Sonni tu ti definisci in qualche modo un uomo praticante o comunque un uomo di fede caro Sonni? Penny assolutamente sì cioè tu lo sai no? certo diciamo che da questo punto di vista io sono una un po' nella realtà che mi circondo una mosca bianca da questo punto di vista anche se come tu pensai ho una visione molto personale della fede e di tutto quello che gira attorno a questa realtà altamente metafisica ovviamente quindi infatti tu molto spesso mi dici e beh Sonni ma tu non sei cristiano ecco tu hai questa dicitura perché secondo me hai anche una visione ecco non voglio utilizzare un termine bannabile ma una visione molto rigida della fede della religione cosa che invece per quanto mi riguarda personalmente è una realtà talmente sottile talmente personale che non può essere strettamente correlata a quello che sono delle regole ben precise diciamo che il tuo modo di pensare è condiviso comunque da molte altre persone che appunto non si vogliono sentire imbrigliate dai canoni religiosi, cattolici o di altre religioni scusami scusami Benni perché c'è questa distinzione importante che v'è fatta poi tra la fede e la chiesa quindi tra la struttura fisica sia architettonica che proprio come dire gerarchica dell'ambito della chiesa io sono contento di aver invitato Davide che adesso andremo a presentare proprio perché lui in qualche modo secondo me sì ma secondo me Davide riuscirà in qualche modo a farti ecco aprire un po' gli occhi su quest'idea che per quanto sia nobilissima in realtà nasconde delle insidie ma ce lo spiegherà lui e allora io vado subito a presentare il nostro ospite Davide dacci le tue specifiche vai Davide ciao a tutti sono Davide ho 28 anni e sono prenovizio nei missionari obblati di Maria Immacolata da un anno ho terminato quest'anno e ho fatto studi totalmente diversi di cinema, televisione, scienze della comunicazione chi più ne ha più ne metta e adesso sono contento di essere stato invitato a questa tavola rotonda di tre persone quindi una tavola triangolare più che altro e di essere pronto di fatto a dare il mio contributo quindi benvenuti a tutti grazie caro grazie caro e benvenuto alla nostra trasmissione caro Benni perché la nostra è una trasmissione diciamo apertamente che cerca di ampliare le vostre vedute cari ascoltatori anche le nostre che ovviamente il dibattito è un dibattito che coinvolge anche noi e poi noi veicoliamo tutto a voi carissimi amabili e amati ascoltatori quindi caro Benni vuoi introdurlo un po' tu e fare qualche domanda sì assolutamente allora diciamo che ecco il titolo già di questa puntata come avete sicuramente letto è abbastanza provocatorio perché allora in realtà Davide nel briefing ci ha spiegato che effettivamente lui ancora sta decidendo se iniziare quella che possiamo chiamare a tutti gli effetti la carriera da sacerdote ma ecco a quanto pare cosa che non conoscevo bisogna in qualche modo prima fare un processo di discernimento per capire che effettivamente diciamo si vuole prendere quella strada ma logicamente in effetti si ci poteva arrivare perché comunque è una scelta per la vita possiamo dire così quindi Davide ci puoi spiegare effettivamente come ti è nata questa idea e soprattutto a che cosa poi potrebbe portare diciamo una volta in cui avrai capito effettivamente di cosa sarà la tua vita su cosa si baserà la tua esistenza fondamentalmente che profondità beh chiaramente quando uno ha una domanda del genere la risposta che può dare è ti racconto un po' come è andata negli ultimi anni io in questi anni ok la mia vocazione non è tanto diversa da quella di qualsiasi altra persona però ecco io volevo chiarire già questo che vocazione non significa sacerdote, suora, prete, frate ma ognuno di noi ha una vocazione perché se io volessi rispondere alla domanda perché uno dovrebbe diventare sacerdote nel 2020 è per rispondere a una chiamata e quindi a una vocazione cioè qualcuno ti chiama a essere tale tu riconosci questa cosa e quindi poi di fatto dici il tuo sì è molto logico ma non è così tanto logico perché io ci sono arrivato a 26 anni quindi due anni fa e neanche con così tanta chiarezza perché di fatto tu fai la tua vita probabilmente anche io adesso lo dico con molta naturalezza però non desti molta sorpresa io prima di venire a Marino dai missionari obblati di Maria Immacolata ho vissuto sei anni con una ragazza e prima ancora altri tre con un'altra e sono state storie importanti cioè molto importanti altrimenti non sarebbero durate tanto per cui non è una cosa che avviene all'improvviso perché la vocazione si dice non si ha ma si è cioè ognuno di noi è qualcosa però il fatto è che quando vivi nel mondo tranquillamente devi discernere discernere significa tagliare di fatto ora non chiedetemi il paradigma l'antino ma intanto lo potreste cercare significa tagliare quindi discernere cosa è più giusto una cosa è scegliere io scelgo cosa è giusto e sbagliato e io voglio immaginare che sto parlando a degli ascoltatori che non hanno problemi a scegliere tra giusto e sbagliato tutti sceglieremo la cosa giusta ma qual è la cosa più giusta? e questo è il discernimento cioè scegliere qual è la cosa l'abito fatto su misura per te per dirla come una figura sartoriale ecco però è una cosa che fai con un cammino cioè sei accompagnato da qualcuno che è più avanti di te che ha fatto probabilmente lo stesso tipo di cammino o è semplicemente ispirato e riesce ad accompagnare i ragazzi e riesce ad accompagnare un ragazzo che è stato praticamente nove anni di fila sempre come una persona a fianco per cui scoprire e dirsi la verità e dire guarda probabilmente il Signore mi chiama a qualcos'altro e io non me lo sono voluto dire l'ho tenuto nascosto l'ho coperto poi ti porta a fare un cammino che ti dice guarda scava in quel punto perché secondo me sotto c'è qualcosa tu non scopri una cosa nuova perché scoprire implica che ci sia già qualcosa ma semplicemente è coperta e allora tu devi scoprire avere il coraggio di farlo scoprire e trovare che c'è qualcosa ora io paragono questo esempio ogni volta a Bernadette che è questa poverella francese che per la tradizione ma la Chiesa lo riconosce abbia visto la Madonna a Lourdes da cui poi è nato il Santuario di Lourdes e la Madonna nei tanti incontri che fa con Bernadette ad un certo punto indica a questa bambina di scavare in un certo punto e lei non esita un attimo a sporcarsi fino sulla testa e incominciare a scavare 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 finché trova dell'acqua ora molti dicono che quest'acqua era miracolosa perché non c'era no, accanto c'è un fiume però per Bernadette avere la sicurezza di voler scavare lì significa che c'era un rapporto di fiducia tu ti fidi di una persona che ti indica un punto e ti invita a scavare e tu trovi qualcosa che in realtà c'è sempre stato però a volte l'hai coperto è stracoperto che sei più in dubbio sei un po' più cinico e dici ma non lo so forse me la penso forse mi si sta prendendo in giro forse questo Dio poi non mi ha detto niente e poi quando invece ti trovi di fronte alla verità hai due occasioni o scappi e continui a coprire oppure dici la verità e quando la dici ti senti già più libero fai una scelta allora poi lì dici sì però chiaramente è un cammino molto difficile che implica chiaramente un'onestà e questa onestà porta a una libertà perché tu scegli liberamente di aderire a qualcosa che è stato pensato per te non significa che è il tuo destino ma è qualcosa che è stato pensato per te che ti renderà la persona più felice sulla faccia della terra e proprio di questo ti volevo parlare caro io scusami io ho già due domande sì io prima vorrei fare semplicemente questa domanda così poi ti lascio che sia per una domanda è una domanda lampo sì probabilmente però non lo so cioè perché ti spiego tu all'inizio hai parlato proprio di giusto e sbagliato e poi adesso nell'ultimo discorso nell'ultimo periodo hai parlato anche di felicità no? quindi evidentemente c'è un connubio tra questi concetti tra fare la cosa giusta ed essere felici ma siamo sicuri che è sempre così cioè il fare la cosa giusta in automatico porta a uno status di felicità o comunque la ricerca del giusto in realtà non dovrebbe essere una ricerca della felicità fondamentalmente a meno che uno non ha una visione molto più ampia del concetto e vede anche questa vita qui come un semplice passaggio momentaneo per qualcosa di futuro ma se uno non dovesse avere ecco questa visione diciamo molto più lunga effettivamente bisognerebbe ricercare la felicità qui su questo mondo giusto Davide? non so certo di fatto io non l'ho mica cercata in un altro e chiaramente è un'ottima domanda perché ti fa ti fa ragionare su un concetto di felicità che non è una cosa che deve arrivare ma che provi nello stesso momento in cui scegli più che altro perché è possibile anche che ci sia gente che sia felice ugualmente anche senza Dio effettivamente o no? vabbè certo ma io sono sicuro di sì anche perché ripeto non è che se io non avessi scelto questa strada e avessi scelto invece di stare con una ragazza avrei fatto male però forse non sarei stato forse pienamente felice ma non lo so finché non scelgo quando scegli allora la felicità e vivi anche poi tutte le rinunce perché anche scegliere una ragazza significa poi rinuncerà tutte le altre ogni scelta è impegnata ma non sempre carissimo questo il lato un po' ironico della cosa però io due cose volevo dire caro Benny riguardo la felicità ragazzi la felicità è una cosa pienamente soggettiva cioè lui è felice perché sta facendo questa scelta io sono felice perché sto facendo quella quindi in realtà non c'è una vera sembra una frase fatta ma è così non è che c'è una ricetta della felicità la felicità è ciò che tu vuoi in quel momento che ti fa stare bene poi che quelle scelte ok siano giusto o sbagliate poi rientrano in una serie di altri concetti morali sociali capito cioè cosa è giusto e cosa è sbagliato ovviamente c'è una base che ti porta a dire che una cosa è più giusta piuttosto che un'altra cioè sicuramente aiutare una persona in difficoltà non può essere mai valutata come una cosa negativa uccidere una persona è palettivamente una cosa negativa però nel infatti diciamo l'esempio si può fare con altre sfumature cioè con concetti molto al limite sono le sfumature che in quel caso possono essere valutate positive o negative ma quello secondo me è una cosa puramente però sai qual è il problema Sonny che chi è che abbraccia una religione effettivamente poi è tenuto a rispettare anche quella che è la volontà della dottrina o comunque di quello che è considerato il catechismo insomma quindi a volte ci si trova quasi ad essere annichiliti cioè la scelta individuale dell'uomo viene meno perché uno deve sottostare a quei canoni a quei regimi nel momento in cui tu vivi la fede in modo in cui la vivi in modo non critico questa cosa è come dici tu ma se tu la vivi come la vivo io io non mi sento imbriviato non mi sento cioè io mi sento molto libero io non mi sento soffocato e ho capito però Sonny scusami scusami te lo dico ma ad esempio il non andare a messa la domenica anzi ogni domenica della propria vita quindi una sorta di partecipazione obbligatoria che impone la nostra religione aspetta 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 no 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 questa cosa stai dicendo è una cafonata caro bene sì ma è considerato un peccato mortale al pari dell'omicidio caro Sonny lo sai no? posso dire una cosa il nostro ospite voglio che intervenga su questo mio pensiero anche lì è una cosa fortemente soggettiva cioè io posso no no relativamente niente bene ora non mi devi fare imbestialire perché ok ok benissimo quella persona X va sempre ammessa la domenica sempre ma come tu ben sai tante di quelle persone perché poi magari tu sei in realtà anche paesana come la nostra conosci quelle persone conosci quella gente eccetera eccetera ora il fatto di andare ammessa non ti rende già di per sé come dire salvo da quel punto di vista o comunque una persona no vabbè chiaro ovvio infatti è una partecipazione minima infatti siamo d'accordo è giusto il fatto di essere credente di andare ammessa perché è un momento personale eccetera eccetera però anche lì ok se tu metti sulla stessa bilancia uno che non è un oddio diciamo che andare ammessa è personale ma comunque prevede sempre il rito della comunione che comunque già come parola ti fa pensare al concetto di appunto condivisione con una comunità quindi effettivamente c'è il non partecipare al sacramento ad esempio della diciamo della comunione appunto quindi del miracolo della transustanzazione in qualche modo sì bene ma non mi hai fatto fine il concetto cioè il fatto di andare ammessa se una persona l'ha ammessa poi comunque nella vita quotidiana non segue i principi vabbè chiaro va bene ma non sei cattolico però questo è il problema ma questa cosa la dici tu ok ok mettiamo che non sei cattolico il fatto di non essere cattolico ma credere in Dio ok nel Dio della religione cristiana cattolica quindi Gesù eccetera eccetera tutto quello che conosciamo noi ora se io non vado ammessa per esempio la domenica dove vengo classificato ecco questa è ancora una domanda che voglio fare al nostro ospite per esempio ma il fatto che io non ci vada non è che non ci vado ecco per esempio dove vengo classificato non sono un credente come sono combinato dipende dalla predisposizione io dico forse anche un po' romanticamente dipende dalla predisposizione del tuo cuore cioè se tu non vai ammessa perché non te ne può fregare di meno e chiaramente non sei un credente non per questo se uno non va se uno non va perché non può andare perché ha 30.000 motivi non significa che tu non ci possa tornare chiaramente non siamo ai tempi degli ebrei se uno era impuro per una certa cosa o per un'altra veniva escluso dalla comunità la Chiesa Cattolica non ammette questa cosa cioè se uno allora pecca e sbaglia una volta o fa altri pensieri oppure va ammessa tutti i giorni non solo la domenica tutti i giorni e poi fa qualcos'altro fuori comunque accettato dentro la comunità perché siamo tutti siamo tutti persone cioè siamo tutti peccatori tutti sbagliamo e questo non significa va bene tutto significa che nella misura in cui ognuno sceglie di vivere in cammino ammette anche le cadute gli sbagli e tutto quello che è capitato ok però però a volte non si io volevo per questo la criticità che io faccio a te Bernardo sì però aspetta Sonia aspetta con gli sbotti facciamo questo discorso e questa forma quasi come dire totalitaria questo è il danno no Sonia di sbagli totalitaria che tu hai no no aspetta aspetta o meglio ascoltami che hanno molti preti della religione la gente molta gente che ha un modus operandi particolare la gente è che c'è quel tipico cristiano che quando gli imponi una cosa non la fa per partito preso ok ci sono questo tipo di ragionamento secondo me dannoso per la fede e per la chiesa allontana la gente il fatto c'è il discorso che mi ha fatto Davide è stato bellissimo cioè capito io non mi sono sentito giudicato da quello che ha detto lui per il fatto che comunque non vado sì ma tu non è che non ci vai scusami Sonia però tu non è che non vai a messa domenica perché chissà per quale motivo tu non lo metti tra le tue priorità relativamente non lo metti tra le tue priorità molte volte molte volte non lo faccio per tempo molte volte per negligenza ma quella è la mia colpa però sì ma tu non la senti una colpa così grave da perché comunque se no la metteresti comunque al primo posto tra le tue scelte da fare la domenica e invece non è mai una possibilità ma io io non mi senti in colpa se mi senti sicuramente no non è che non mi sento completamente in colpa però credo Sony neanche ti passa per la testa ma ci sta diciamo non ti sto giudicando ma faccio ma non lo consideri proprio come una possibilità capito ma non è così io prima per esempio lo facevo molto più spesso quando ero più piccolo c'era un'abitudine anche che avevo ora la cosa è cambiata sia per mancanza di tempo sia perché comunque ormai si hanno altre priorità ma non per forza quelle priorità ma non per forza quelle priorità sono più importanti possibilmente la mia è una forte negligenza o l'agnusia in certi casi non sto dicendo che sto facendo bene sicuramente però da qui a dire se tu non vai la domenica ammessa non sei valutabile come non credi alla religione come dici tu non ho detto che se non ci vai ho detto che se tu lo consideri come una cosa secondaria invece se tu fossi un realmente cristiano cattolico che conosce effettivamente la propria religione saprebbe che comunque non è una cosa da prendere a leggera ed è una cosa molto più importante di come la consideri tu quella della partecipazione possibilmente possibilmente ma può essere che ho un'azione di un certo tipo che non è quindi non seguendo in automatico i canoni non seguendo in automatico diciamo quelli che sono i dettami della tua religione ti autoescludi da solo cioè questo sto dicendo ma questo lo dici tu questo è un tuo pensiero troppo rigido te l'ho sempre detto capito la chiesa la chiesa aspira un po' alla perfezione di cui Cristo se crediamo in questa cosa l'ha voluta dotare però chiaramente siamo fatti di carne ed ossa bravo bravo quello che dico io ora non è per fare il buonista o perché perché io sono forse l'ultimo che dovevo parlare perché non conosce benissimo però quello che sceglie lo sceglie in merito a un rapporto cioè la prima cosa che fa il cristiano il prete la suora ma anche il laico lo sposato chiunque è rispondere a un amore che ha provato e di cui ha fatto esperienza questo lo lega e da cui il termine è religione essere legati insieme lo lega a tanti altri che hanno fatto la stessa esperienza e però in base alla propria esperienza uno può averla interiorizzata diversamente il problema dell'uomo di oggi lo dico forse come un tuttologo come un sociologo è che noi vogliamo tutto ma non vogliamo i limiti e il problema è che i limiti fanno parte della nostra natura questo ora il limite non è per forza una cosa negativa ti distingue cioè è il tuo contorno ti fa essere quello che sei e non qualcun altro se ognuno di noi dovesse decidere di andare in chiesa o di fare quello che vuole con i sacramenti con quello che ha si crea la sua religione ma non è più religione perché non ti lega a nessun altro diventi un relegato in uno spazio singolo individualo e tu sei quello ed è il problema per cui molti si fanno idee di un Gesù che dice delle cose e in realtà non li ha mai dette perché se noi crediamo che la scrittura è la sua parola ed è stato scritto quello che ha detto lui quello è e quello ci dobbiamo mantenere e in base a quello ognuno poi lo rivede nella propria vita io non voglio pensare che se appunto metti i lebrosi i lebrosi non potevano entrare nella sinagoga e non potevano più pregare eppure sono stati i primi che sono stati guariti a Gesù non sono state proprio perché l'ebraismo aveva questa concezione molto ferrea del se tu verdi sangue perché hai il ciclo mestruale non puoi entrare in sinagoga e se tu ne soffri per 30 anni non ci sei mai entrata praticamente eppure questa donna arriva a dire se solo toccassi il lembo del mantello io sarei salva è la fede è la fiducia in un qualcos'altro che è un rapporto con una persona non è un rapporto con una gerarchia con una struttura perché la struttura è venuta perché siamo uomini abbiamo bisogno anche di un po' di ordine quelli che noi chiamiamo i comandamenti quello che noi chiamiamo il catechismo a parte che i comandamenti proprio stamattina guardavo una catechesi di Don Fabio Rosini che è molto in gamba in questo perché ha l'accento ciociaro romano ma ti spiega le cose così pane pane vino al vino il comandamento è una parola che noi abbiamo tradotto in latino ma la parola greca è parola cioè sono le dieci parole perché tu Dio non è che lo vedi tu lo ascolti prima di tutto il fatto che tu ascolti e richiama la vocazione la chiamata ti implica una risposta quelle dieci parole sono una possibilità che Dio offre all'umanità di vivere una vita piena ricordati di santificare le feste è un comandamento ecco una parola che ha a che fare con il rapporto personale con Dio non c'entra la comunità la comunità è una conseguenza perché se tu segui Dio poi Dio ti porta in una comunità perché sa che da solo non ce la fai perché infatti non perché dice io ti chiamo e adesso ti arrangi ti metto con un paio di persone e queste persone di fatto poi ti fanno anche controtestimonianza per cui non è un Dio che ti manda da una parte e poi magari gode anche del fatto che tu non ci stai bene è la prova cioè se tu hai scelto di seguire una persona perché è una persona concreta di cui fai esperienza se uno non le fa esperienza questa cosa non la capisce e non gliene si può fare neanche una colpa non è che io adesso vado in giro e dire ah tu non l'hai conosciuto Gesù non sei degno ma neanche io prima che lo conoscesti io ne potevo essere degno quindi sono l'ultima persona a parlare però nello stesso frangelo si dice quando Gesù chiama i dodici apostoli ognuno è indignato del fatto che l'altro sia stato chiamato come lui cioè dice ma perché ha chiamato me poi ha chiamato quell'altro ha chiamato quell'altro ma ha chiamato un pubblicano ha chiamato un esattore delle tasse ha chiamato una serie di persone che erano proprio le persone meno cioè le persone meno adatte secondo i criteri nostri ma lui chiaramente non aveva questi criteri quindi sceglieva le persone proprio per dare un segno anche di cambiamento poi andando avanti questi apostoli sono diventati anche i capi delle comunità perché dovevano gestire le comunità dove andavano a fare la missione e scrivevano le lettere sono quelle che si leggono durante le messe lettere che servono a invogliare la gente a restare insieme però nella misura in cui noi ancora oggi vogliamo farci da noi e non capiremo mai che cosa è la dottrina la dottrina non è una cosa che è messa lì se ci obbedisci bene se non obbedisci no se tu rispondi a un rapporto che è personale quella dottrina quel comandamento se lo vogliamo chiamare comandamento quella parola quel sacramento diventano per te uno stile di vita che ti rende libero come diceva proprio all'inizio Sonny è una cosa che ti rende veramente te stesso ognuno con la sua specificità per cui non possiamo dire che è una frase che è un po' come dire poco sdoganata e io vorrei sdoganarla insieme a tanti altri che lo fanno Dio non ama tutti Dio ama ognuno cioè ognuno nel suo specifico se ama tutti siamo una massa e va bene tutto ma in una religione che è la religione cristiana cattolica ognuno di noi ha una sua esperienza di Dio probabilmente non l'ha neanche fatta a volte e quindi la comunità ti aiuta ti sorregge in questo senso l'abitudine di cui parlava Sonny l'ho vissuta io penso l'abbia vissuta anche Bernardo e chiunque ci sta ascoltando sa che ognuno di noi vive in un contesto e quel contesto ti aiuta ti plasma ma tu poi alla fine scegli se aderirvi o meno chiaramente è tutto su un rapporto ed è un rapporto che è personale non ricordo adesso quale Vangelo ma si chiude con una critica di Pietro al discepolo che Gesù ama di cui non sappiamo il nome alcuni dicono sia Giovanni ma non è detto e Pietro dice ma perché questo qua ci segue per dirla in poche parole cioè perché questo qua ti segue come ti sto seguendo io e Gesù finisce il Vangelo finisce che Gesù dice a te che importa tu vieni e seguimi la chiamata è sempre personale poi rispondendo tu risponde anche un altro risponde anche un altro e quindi chiamato ad accettare l'esperienza per cui loro hanno detto di sì nessuno si mette lì a giudicare tu sì tu no tu di più tu non sei venuto e tu così però che uno vada a messa la domenica è almeno il primo precetto possiamo dire ma il primo come dire il primo consiglio ecco è una parola cioè ti viene detto se tu vuoi amarmi la possibilità che ti do è di venire a messa perché se tu vieni a messa ti comunichi la comunione di cui parlava Bernardo prima di tutto è con Dio e poi è con la comunità tu sei chiamato a fare comunione personale con Dio e come lo fai tu lo fa la comunità quindi poi quello là ti rende comunità dice andate in pace alla fine della messa significa siate comunità come lo siete stati per adesso in questa oretta tre quarti d'ora e quindi scusa Davide scusami scusami scusa che ti rinterrompo allora qua c'è una differenza sostanziale perché Davide ha detto in un modo e questo è quello che fa la differenza nel relazionarsi con la gente e con gli altri e questo è il danno della società sia da un punto di vista religioso sia da un punto di vista istituzionale eccetera eccetera cioè secondo me la chiesa per riavvicinare gente la scuola per produrre se così possiamo dire professionisti o gente con un certo tipo di cultura ha bisogno di gente altamente qualificata nella comunicazione tu e Davide mi aveva detto quasi la stessa cosa solo che tu lo hai detto in un modo bene mi sto riferendo a te sì in un modo aggressivo aggressivo lui me l'ha detto in un modo in un modo che è corretto che è corretto quindi quello che io spero e quello che io che io odio della società che ci circonda è che secondo me la gente che dovrebbe essere educatore sia dal punto di vista della chiesa ti dico un esempio a Corleone non voglio nominare il catechismo che facevamo noi con quelle signore che per l'amor per tutto il rispetto posso fare per quelle signore ma che sono l'anti catechismo secondo me perché è fatto male è fatto in modo sterile per parlare di fede per parlare di certe cose ci vogliono persone che sono uno altamente aperte al dialogo che non ti fanno minimamente trapelare altra cosa non ti fanno trapelare il fatto che ti stanno giudicando ok perché io non mi sono giudicato da Davide da te sì da Davide no ok questa è la differenza ostanziale che devono avere una conoscenza che devono avere la mente aperta tutto quello che è chiusura porta un danno nella fede nella scuola che qualità c'è dell'insegnamento ultimamente c'è la percentuale di di qualità no del professore del maestro dall'università all'asilo becco tutti ragazzi oggi sono arrabbiato per non dire altre parole perché non le voglio dire oggi sono arrabbiato che qualità c'è nell'insegnamento che qualità c'è nella gente che gestisce il catechismo ecco dobbiamo cambiare questo punto di vista bisogna spiegare ma tu non lo puoi sapere come siamo adesso combinati cioè nel senso che magari tu sei rimasto a quel tempo lì magari oggi invece ma quel tempo ancora esiste il tempo di coloro che hanno distrutto la nostra società cioè tu hai fatto il catechismo vent'anni fa caro Sonni adesso chissà come sarà non lo sappiamo probabilmente tu non sei neanche gli ultimi aggiornamenti legati proprio al rito della messa perché appunto non la frequenti ma chi è che attualmente sì ma lo vedo ma chi è che attualmente cosa vedi dove lo vedi ma perché ci sono tutti i predi che tu vedi nel mondo sono tutti i trentenni come abbiamo noi di cinque anni o gente ancora di quel retaggio lì antico ci sono anche i trentenni che hanno una visione anche della religione molto diversa rispetto a quella che hai studiato tu ma sono pochi ancora sono pochi ancora se di fatto che c'è un canale perché nella realtà probabilmente paesana in cui magari vivi c'è ancora quel tipo di retaggio però effettivamente io ma tu quando vedi San Pietro la domenica i cardinali tutti vecchi vecchiazzi ma i vecchi non è che hanno diciamo parola ma i cardinali devono avere una certa età per essere eletti i cardinali lo fanno anche questa cosa e però sono ancora loro a scuola la maggior parte se tu vedi tutti i professori nuovi comunque c'è un modus operandi diverso c'è una differenza abissale tra il professore sessantenne e settantenne della vecchia università del vecchio impero rispetto al professore giovane quindi ancora siamo in una fase di cambiamento ma ancora c'è quel vecchiume dannifico sì però diciamo nella chiesa italiana ultimamente c'è comunque anche nella chiesa italiana nella politica è tutto vecchiume dannifico malvagio marcio quindi dobbiamo esserpare questa cosa io per questo sono contento di fare questa cosa perché si stiamo relazionando con una persona che è coetanea nostra che ha inevitabilmente una visione del mondo diversa che può cambiare in qualche modo l'approccio in questo caso parliamo di religione quindi manteniamoci di questo argomento l'approccio delle nuove generazioni alla fede perché i nuovi ragazzetti sono tutti lontani da questa realtà bene non mi direi che non è vero assolutamente ma infatti secondo me oggi c'è anzi in mezzo di quanto eravamo noi no no chiaro ma secondo me oggi c'è anche più consapevolezza nel senso che è un po' come anche per il discorso del matrimonio cioè se prima lo si faceva per una questione prettamente tradizionale cosa che tra l'altro avviene ancora oggi diciamo che oggi c'è anche diciamo la possibilità di poter abbracciare il rito per esempio civile tornando al discorso del matrimonio e non è più visto come diciamo qualcosa di quasi da anticristo no? cioè come in passato quindi il fatto che ci sia questa ampia gamma di possibilità e di scelta ha fatto sì che anche all'interno della chiesa aumentasse la qualità tra virgolette sia dei fedeli che anche dei pastori quindi io non vedo tutta questa qualità perché tu sei lontano caro Sonni sei lontano tu dici di essere religioso ma se io me ne vado in chiesa oltre domenica ma quale chiesa vai Sonni sì ho capito però quale chiesa ma che stai dicendo ma che stai dicendo dovresti andare anche oltre vai oltre caro Sonni ma quando vai ma la gente che tu trovi in chiesa attualmente io ho una cosa non volevo più che altro vogliatevi bene perché so che vi volete bene comunque a me è una cosa che mi sono cioè che mi sono abituato a fare anzitutto ascoltare l'avete visto però è stato chiaramente con il percorso che faccio che è anche di missione per cui tu vai in una parrocchia in una scuola in delle classi e racconti un po' la tua esperienza è quella di guardare non cioè guardare l'insieme chiaramente guardare tutto quindi dire c'è questo questa è la realtà però poi vedere le singole persone perché appunto dicevamo una cosa è la comunità una cosa è la singola persona se io dovesse andare in parrocchia qui da me in paese da me perché anche io abito in un paesino pure io vedo quello che chiamiamo il vecchiume però io non mi sono mai azzardato e lo dovrei fare secondo me lo dovremmo fare tutti a chiedere a quella vecchietta che noi abbiamo conosciuto da quando avevamo tre anni il perché sta lì a pregare così tanto e io immagino che tiri fuori delle perle che noi neanche ci immaginiamo perché il nostro problema di oggi è proprio questa che è un problema ma è anche una potenzialità dipende da come ci si rapporta a questa cosa è l'enorme gamma di possibilità cioè l'avere troppe possibilità non ti aiuta a fare discernimento perché tu scegli una cosa e poi vedi delle altre cose e dici però sai che forse e ti avvicini però senza sapere che forse ti stai anche allontanando ti stai avvicinando a qualcos'altro che non è per te e ti allontani da qualcos'altro e quindi io non guarderei tanto soltanto chiaramente non significa chiudere gli occhi ma guardare poi le singole realtà io posso parlare della mia parrocchia probabilmente ne so pochissimo però posso parlare della mia esperienza e delle persone che sono state con me in questi anni io non ho cioè anche le persone anziane che ho conosciuto di missionari soprattutto missionari che ti dicono sono stato 25 anni in Senegal e te lo dicono con una serenità tale che tu dici ma come hai fatto a stare 25 anni in Senegal anche a 70 anni cioè negli ultimi 20 anni da 50 70 anni sei stato in Senegal e quello ti racconta delle cose che ti fanno capire che c'è la possibilità che effettivamente invece tutto quello che vediamo come vecchio in realtà sia vissuto una cosa è vecchio decrepito che non tiene un'esperienza una cosa è dire io ho fatto questa esperienza e poi che io non sappia comunicarla è un altro paio di maniche però l'esperienza c'è chiaramente io non chiederei mai alla vecchia di venire con me in missione perché probabilmente avrebbe problemi proprio di interfaccia con i ragazzi che vorrebbero qualcos'altro però è anche vero che in certi momenti devi anche saper dire no questa cosa no sì questa cosa sì ma infatti sono d'accordo con quello che dici tu perché sicuramente è più chiaro al vecchio tra virgoletto comunque diciamo all'adulto super mega adulto non usiamo queste parole che va a gestire determinate situazioni molte volte va a finire ma questo succede anche con i lavori comuni che si perde un pochettino quell'entusiasmo e che le cose praticamente vi faccio un esempio stai laggando un po' Sonny stai laggando un po' vi faccio un esempio classico quante volte c'è il Vangelo che viene letto il Vangelo e successivamente viene fatta una spiegazione del Vangelo ora l'omenio l'omenio quante volte quante volte che ero ben ok non ce l'ho mai ammessa però per sfortuna perché siamo mortali la gente muore quindi al funerale io ci vado alle varie festività ci vado quindi quelle dieci messe l'hanno come me le metto in sacco se così vogliamo dire il funerale lo consideri ok vai ti sto dicendo quando tu ascolti l'omelia e io l'ascolto non sono di quelli che l'ascoltano si è la mia parte preferita della messa io dico voglio ascoltarlo io personalmente sto dicendo una cosa mia personale pochissime volte ho trovato un sacerdote che mi ha fatto riflettere che non ha semplicemente fatto la parafrasi di quella cosa perché Sonia secondo me non sei mai andato oltre questo aspetto perché tu hai ancora una visione della vecchietta di cui parlavi poc'anzi non sto parlando di vecchietta io sto parlando di quel mondo libero io ti sto parlando che pochissime volte ho trovato qualcuno che ha detto guarda questo di giuro mi ha fatto fare un ragionamento mi ha mi ha arricchito io sono uscito arricchito pochissime volte quindi con la criticità che sto facendo che secondo me ci deve essere un po' più di entusiasmo e l'entusiasmo ragazzi è legato anche alla gioventù sicuro io appena in cominciare a fare il dentista sarò top a 60 anni sarò più svogliato inevitabilmente perché è normale che la gente ti fa investire finisce quindi quello che voglio dire è che secondo me per avvicinare di più gente ci vuole qualcuno che si ponga nei tuoi confronti sono sempre nello stesso medesimo posto dico qualcuno che ti dia che non abbia questo aspetto da giudice che è inevitabilmente quello che c'è ancora sicuramente stiamo facendo un passaggio inevitabilmente c'è un cambiamento perché le persone più anziane comunque stanno invecchiando eccetera eccetera e ci sono le nuove leve questo cambiamento si nota in tutto in tutta la società a 360 gradi ma ancora è poca io sto parlando dal punto di vista quantitativo quindi più Davide ok nella società più professore capito questo ti dico di più di più ora si deve aumentare ok all'università io condivido condivido due cose di quelle che ha detto Davide devi farci una chiusura adesso perché siamo a 42 minuti siamo a 42 minuti vai chiudo semplicemente appunto riprendendo quello che si è detto perché secondo me chiaramente e forse rispondo perché uno dovrebbe pensare di diventare sacerdote ma questo già è molto lontano perché chiaramente c'è un rapporto e questo è chiaro ma che deve essere un rapporto che deve essere rinvigorito ogni volta quindi l'entusiasmo che diceva Sonny io lo chiamerei proprio passione quando tu sei appassionato di una cosa e cerchi di trasmettere la passione all'altro chiaramente in questo c'è un problema che non tutti abbiamo lo stesso carisma nel senso che ognuno di noi può essere più bravo a parlare con alcune persone e non con altre ma ci sono cose che solo tu puoi dire persone che solo tu puoi amare persone che solo tu puoi ascoltare persone che solo tu puoi guarire e persone a cui solo tu riesci a parlare e a dire le cose chiaramente per cui non è detto che tutti debbano riuscire a parlare a tutti perché probabilmente non avranno colpito te quelle parole di quel dato prete per l'esperienza che hai fatto tu ma magari ne ha colpite altre tante altre come invece uno che è più appassionato a te ha colpito di più a qualcun altro invece più anziano ha colpito di meno a parte l'entusiasmo del dire un bravo ragazzo è giovane che bello vedere dei preti giovani però ecco forse dobbiamo andare alla radice cioè ognuno dentro il proprio cuore deve capire discernendo qual è la cosa più giusta per sé e rispondere a una chiamata che è una chiamata di amore che poi ti spinge a essere appassionato di quest'amore tu nel momento in cui trovi un tesoro hai la tendenza a volerlo tenere per te il problema è che tu sei chiamato a condividerlo con chi è che ancora questa esperienza non l'ha fatta per cui io sono contento di essere stato con voi perché ci ho provato ma non significa che io ci sia riuscito che ci riuscirò perché è una lotta continua perché tu sai cosa difendi ma sai anche che non devi dare le perle ai porci e qua ci sarebbe un sacco di altro da parlare perché non significa che tu svendi ma significa che tu offri e offrire lo rende un sacrificio cioè una cosa sacra ma infatti caro Davide quindi la vostra è compassione assolutamente Davide tra l'altro questo sarà appunto il primo appuntamento ho detto la parola prima un sacco di volte ma insomma dobbiamo assolutamente chiudere caro Sonni io ringrazio tantissimo il nostro caro Davide stacca stacca caro Sonni e quindi ma voglio dire solo che non puoi non puoi ciao Sonni la prossima volta assolutamente sì caro Davide tornerai ne sono sicuro che tornerai fai un saluto Davide ora via ragazzi grazie bravo